iniziamo da adesso domani partiamo per Istanbul quali sono i tuoi pensieri speriamo non ci siamo tornato chiana mi pieveranno il bagaglio dovete sapere che chiana non ha fatto nemmeno l'assicurazione sanitaria come gli horror che meno sai direttamente più lascia l'immaginazione meglio è a domani sei gay a domani che stiamo facendo io siamo in aeroporto siamo per non per partire l'aereo è già un'ora di ritardo siamo arrivati quindi a aeroporto all'aeroporto dobbiamo fare raga abbiamo perso qualsiasi capacità di fare le cose questa letteralmente la situa troppa gente beh ora saluta che ci vediamo dopo il check in se sopravviviamo non ci vanno i video a spiegher mentre mangiano che bello è quella nostra colazione slash pre pranzo che si danno da mangiare sull'aereo quindi non vogliamo pranzare era ammirrorato il mio la mia ossessione col mango e io e si è fusa con la sua ossessione per i centri di due quindi adesso i nostri gusti sono molto coincisi nel fatto di prendere e cercare qualsiasi cosa abbia detto un mango probabilmente la prossima volta che ci vedrete sarà sull'aereo spero sotto nooo stiamo facendo tipo storie qualsiasi cosa eravamo tipo ah non siamo dimenticati siamo rimaste sulle scale fuori dall'aereo per tipo uno scherzo una ventina di minuti non abbiamo fatto niente stiamo pagliano su un bel piazza e il bianco si mancherà mi fanno nooo 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 oh nooo controverso e da mostrare al su che te è. Allora, è arrivato il pranzo, è un panino che ha tipo soltanto, solo formaggio e peperone. Potete sentire un bambino che piange. Mentre vi abbiamo la letta alla nostra sinistra che ci sarà ricco, io nel salizio lo sveglio, io devo pisciare. Però siamo atterrate, non sembra me lo faccio così tanto caldo. No, infatti. Mi ammazzo, ora ho una vista prima di me, quindi è comunque fermo. Stiamo facendo vedere quanto vicino a costare le macchine, perché stiamo schiattando la morte veramente tante volte. E' bello, no? Io finchiamo l'entro, non è vero, è vero, è vero. Parleremo di cosa è successo quando saremo in hotel. Guarda che cinematografico che sembra, madonna. Sì, raga, parli di stare ai Caraibi. Ci hanno portato in giro i nostri amichetti e stiamo vivendo proprio la vita in questo momento. Anche perché ci hanno detto di essere in fiera a tipo le 4. Raga, è tipo i Rimini Comics turco. Io sono un sacco di dire. Sono fatti anche i Rimini Comics. What the fuck? Sì, saremo in fiera più o meno le quattro, raga. A questo Rimini Comics turco. Il nuovo nome della fiera. Rimini Comics turco. Il primo giorno, raga. E stiamo andando. E la cosa? Ehi, il vlog in the vlog. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì.